E' vero che commette un errore chi pensa votando no di liberarsi di Renzi, perché ribadisco infatti che secondo me se vincesse il no Renzi farebbe tutt'altro che andarsene, anche perché la maggioranza rimane quella e la maggioranza è la maggioranza del Partito Democratico. Neanche dare la mattarella e ritornare le camere. Ecco perché dico non ci sarebbe nessuna grande crisi. Detto questo due piccoli micro commenti. Uno, la preoccupazione dei paesi stranieri lascia il tempo che trova. Preoccupiamoci degli italiani e delle italiane e pensiamo a noi, perché che si preoccupino gli altri paesi non mi sembra una priorità. Due, è giusto il ragionamento. È una riforma che serve anche a garantire un ritorno degli investimenti stranieri in Italia. Ma io credo che anziché bloccare il paese per mesi e mesi su una riforma molto delicata, i cui contenuti poi spero che potremo andare a discutere, sbagliata per quello che noi pensiamo, forse sarebbe stato più semplice fare finalmente una bella riforma della giustizia, visto che sappiamo molto bene che è proprio il problema soprattutto della giustizia civile che impedisce un ritorno degli investimenti. O forse perché no, magari è sognare, ma una bella riforma fiscale che finalmente mettesse in pace il rapporto tra Stato e pagatori di tasse, cioè contribuenti. Cose che si potevano fare benissimo senza andare a scomodare la Costituzione e che invece non si sono fatte perché si è preferito impostare questa legislatura che ha compiuto poco più di mille giorni con il governo di Renzi, questo tratto di legislatura andando a cambiare le regole della democrazia e facendolo per quello che noi stiamo denunciando dovunque in una maniera improvvisata e purtroppo non con gli esiti che tutta la propaganda pro referendum, pro riforma sta mostrando. Quindi di questo poi parleremo, però attenzione perché è giusto autopremiarsi dei risultati, però sarebbe anche troppo semplice dire che in questi mille giorni di grande ripresa e di grande celebrazione del ritorno del paese a magnifiche sorti e progressive, abbiamo un debito pubblico galoppante che continua ad aumentare, Renzi aveva promesso di ridurlo, è aumentato di 106 miliardi di euro in mille giorni, immigrati che arrivano da ogni parte, 480 mila ne sono arrivati da quando c'è Renzi al governo e 210 mila italiani che sono scappati dall'Italia in cerca di un lavoro, 1 milione e 400 mila italiani che lavorano a voucher, sono il doppio rispetto a prima che arrivassero Renzi, questa è la realtà del paese con i numeri dell'Istat, non i numeri di Deborah Bergamini, i numeri dell'Istat. Allora, diciamo la verità agli italiani, non continuiamo a mentire, perché poi le bugie hanno le gambe corte, non continuiamo a raccontare un'Italia che gli italiani sanno benissimo non esistere, che è nei sogni e nella propaganda, ma non è nella realtà, perché i numeri parlano chiaro.